Un saluto a tutti gli amici pescatori che seguono TuttoSpinning qui sul canale YouTube. Io sono Luca Raldiri e come sempre mi trovate qui in negozio a Pusiano per parlarvi di pesca. Oggi vediamo due novità del catalogo St. Croix per il 2022. Vi sto parlando della nuova BassX e della nuova Legend Tournament Bass. Partiamo dalla BassX, serie restyling di una, di quella che possiamo definire la serie Entry Level per gli amanti della pesca al Bass di St. Croix. Andiamo ad unboxarla anche se come St. Croix ci ha abituato c'è ben poco da unboxare. Le canne arrivano dentro queste veline trasparenti e già si vede subito che cosa c'è dentro. Serie restyling perché di fatto non sono andati a fare grandissimi miglioramenti. Hanno fatto solo un restyling estetico e qualche modifica nelle misure. Di cui poi parleremo perché c'è qualche novità interessante. Serie restyling partiamo con innanzitutto la caratteristica è quella del grezzo sempre lasciato a vista, non ricoperto, non verniciato. Quindi lasciato grezzo, appunto, sempre in SC2. Quello che è cambiato è stata un po' la rifinitura della componentistica. Come potete vedere abbiamo, questa è un modello da casting nella serie normale, poi vi farò vedere anche una chicca molto particolare. Comunque, sempre manico splittato con il grezzo a vista nella parte qui centrale. Calcetto con doppio componente EVA e tappo in sughero. Manico in sughero, in pugnatura in sughero con questo porta-mulinello che non è un Fuji, ma non so, non capisco che cos'è. Ah no, è un C-Guide con questo piccolo inserto in similcarbonio e ghiera di chiusura, sempre con il componente in EVA. Hanno giocato molto con questo mix sughero EVA e via per creare un look moderno. Una cosa che subito salta all'occhio in questa serie è sicuramente quella di aver messo il ferma esca, il porta esca in questa posizione. A parer mio, è una scelta che tante aziende stanno prendendo, soprattutto tante aziende americane, quella di porre il ferma esca sotto. Non so bene il perché, credo, ma correggetemi se sbaglio o se voi lo sapete, credo che abbiano preso tanto la scelta di mettere il ferma esca sotto al manico, soprattutto adesso che vanno di moda i manici splittati, perché in America tanti stanno cominciando ad utilizzare, in realtà è già tanto tempo che ci sono, le classiche calzette, quei preservativi da mettere sulle canne. E i ferma esca posti qui danno meno noie, meno problemi con ancorette varie che si vanno a impigliare nelle calzette che ricoprono le canne. Credo che sia per questo. In realtà, non lo so. Quello che però vi posso dire è che su questa canna, su queste serie di canne, come anche su Legend 1, mentre che andremo a vedere dopo, tutti i manici, tutte le dimensioni di manici, delle canne, sono state pensate, le altezze anche, sono state pensate a seconda delle diverse tecniche. Quella che ho qui in mano, per esempio, è la 74HF, la classica Slope & Frog della linea St. Croix, una canna che esisteva già prima, esiste e probabilmente esisterà per sempre perché è una dei loro best seller, e hanno deciso di fare questa scelta. Un po' strana l'idea di mettere proprio il porta esca, scusate, il ferma esca, in linea con il porta esca, quindi va proprio sotto. È fastidioso, secondo me. Però se l'hanno voluto fare loro, chi sono io per dare di torto. Caratteristica poi, cosa classica che vediamo su tutte le St. Croix, abbiamo qui il taloncino con le caratteristiche tecniche della canna, in questo caso la 74HF, classica, 7 piedi e 4, 3 ottavi, 1 oncia, EV fast, classica canna da rana, o se vogliamo da jig pesante, e poi il logo che contraddistingue la serie, in questo caso Bass X, ve lo faccio vedere in questa maniera, con questi nuovi colori, se prima ci avevano abituato al nero e azzurro, ora cambiamo completamente e andiamo su questo giallo fluo verde con la X rossa. Un po' pacchiano, se devo dire la verità. Vi avevo parlato di cosine interessanti, nuove novità interessanti della serie, infatti vado a prendere un'altra canna che vi faccio vedere subito, sempre della serie Bass X, e qua ho in mano una delle canne da swing bait, hanno fatto, un po' come si vedeva anche nelle serie di altre marche, ad esempio anche in Dobbins, il marchio che noi importiamo direttamente dall'America qui da Tutto Spinning, l'idea di fare dei manici diversi, una componentistica diversa per la linea da swing bait, sintomo comunque che la swing bait sta tirando moltissimo. Ne avevamo già parlato, le avevamo già intraviste queste canne nel nostro Cosa Cazzo Compro, dedicato alla swing bait, speciale swing bait, ma andiamo a vederlo un pochino più nel dettaglio. Quella che ho in mano è una, appunto, come vi dicevo, delle tre canne da swing bait che hanno messo, hanno messo la 3, la 5 e la 8 once, quella che ho in mano appunto è la 8 once, per coprire un po' tutti gli utilizzi. Abbiamo questo calcio, questo manico con il calcio intero, tutto in EVA con questi inserti in sughero, sia nel tappo che in questo anello nella parte centrale, inserti che se voi poteste passare la mano, sentireste che indicano anche dove cambia la conicità del grezzo, che in questa parte centrale è un pochino più sciancrato, non è proprio un tubo dritto. Forse solo per migliorarne un attimino l'ergonomia, anche se su una canna di questa portata, diciamo che ergonomia, lascia un po' il tempo che trovo. Comunque, abbiamo una canna col manico bello lungo, che ci aiuta nell'impugnatura per lanciare esche belle distanti. Portamolinello, in questo caso, non un tipo scheletro, chiamiamolo così, di Sea Guide, ma rimane sempre un Sea Guide, ma completamente intero. Hanno fatto questa scelta di passare tutto a Sea Guide. Scelta probabilmente anche dettata un po' dalla mancanza delle componentistiche Fuji sul mercato negli ultimi mesi. Poi, con tutto che completa, con questo manico in EVA. Poi il grezzo rimane poi intero, sempre a vista, sempre come mamma St. Croix ci ha abituato. Vi ricordo che nella serie Swinbait, sia nella serie Bass X che nelle Victory che abbiamo già visto, hanno fatto queste nuove linee, queste nuove canne da Swinbait, 7 piedi e 10, 3, 5 e 8 once. Hanno fatto, in generale, quali sono state le novità delle serie, sia in Bass X che in Victory, la nuova serie che abbiamo visto, che in Legend Tournament, è stata quella di inserire nuove canne, nuove misure, sia nelle serie da spinning che nelle serie da casting, nuove misure e tendenzialmente sono andati, hanno confermato alcuni dei best seller della serie, però sono andati anche a mettere nuove misure, nuove lunghezze soprattutto, e tendenzialmente, come vi dicevo, sono andati a scegliere canne leggermente un po' più lunghe. In America il trend è un po' quello di preferire delle canne lievemente più lunghette, e quindi sono andati a scegliere delle canne normalmente più lunghe. Come vi stavo parlando di Legend Tournament, vi faccio vedere questa Power Finesse, modello da casting, con lunga 7pd3, quindi una cannetta da un finesse cazzuto, una 7 ottavi, quindi anche una misura non comune, una grammatura non comune, abbastanza lunghezza, una canna che io vedo bene con la gomma, non è un oncia, non so perché non l'hanno voluta fare da un oncia, hanno fatto questa 7 ottavi per differenziarsi forse, comunque una canna da pescare a gomma, non troppo leggera. Vediamo un po' una Legend Tournament più da vicino, entriamo un po' nel restyling delle Legend Tournament. Sulle Legend Tournament, a differenza di quello che è stato fatto su Basics, non si tratta solo di un mero restyling, ma sono andati a cambiare anche il carbonio. Qui infatti non abbiamo più l'SC4 che avevamo prima, l'SC5 che avevamo prima, ma abbiamo l'SC4 Plus, un carbonio di nuova concezione, rimangono alcune delle tecnologie che avevamo già incontrato su St. Croix, ma qui sono andati a migliorarne leggerezza e resistenza nel tempo. Quindi abbiamo uno dei best seller, anzi probabilmente il best seller, la canna più amata dagli amanti della Pesca al Bas, in un nuovo design, tutto sommato ancora abbastanza vicino al classico, il blu, guai a chi glielo toccava sulle Legend Tournament, ma anche qui abbiamo nuove misure, nuovi grezzi, più leggeri e più resistenti. Andiamo a vedere un po' quella che è la componentistica, abbiamo ancora manici splittati, qui abbiamo ancora tanto sughero, come Legend Tournament ci ha abituato, doppio sughero nella parte, nel calcetto, con il tappo diverso, ghiere in questo metallo, con queste zigrinature, questi tagli che riprenderanno un po', saranno il life motive di tutta la serie, ancora manico in sughero, qui il portamulinello in questo modello è stato posto nella parte anteriore, non qua dietro, e l'inserto in sughero più scuro dentro al mulinello. Ritornano il portamulinello, qui sì abbiamo un Fuji, ritorna il portamulinello Skeletor, che abbiamo visto nella primissima, nella vecchia serie Legend Tour, nella vecchissima serie Legend Tournament, dove addirittura non avevano messo qua l'inserto, ed era un portamulinello che a tanti non piaceva, ma che a me faceva impazzire ad esempio, che aveva il grezzo a vista. Qui ritorna lo Skeletor, ma dove per migliorarne l'ergonomia, l'ergonomia, la comodità in pesca, hanno lasciato un insertino qua in sughero scuro. Tappo poi che riprende ancora quelle ghierette in metallo, che vi dicevo prima, con questi tagli trasversali, che se devo dirvela tutta, a me non è che fanno impazzire proprio come design estetico. In generale ho notato che Basics, che St. Croix, si è un'attima persa via nel design, nell'ultimo anno. Le serie che ha buttato fuori, secondo me, peccano un po' dal punto di vista di design. Sono un po' troppo grossolane. Forse ci si può ancora impegnare un pochino. E poi, vabbè, andiamo avanti. Abbiamo le caratteristiche della canna. In questo caso, la Power Finesse è una nuova serie, una nuova misura. 7 Pd3 HXF, molto rapida, che come vi ho detto, lancia da 3 ottavi a 7 ottavi. Misura un po' particolare. Poi abbiamo la linea, il logo che contraddistingue la serie, le tecnologie del grezzo, ART, IPC, FRS, e poi andiamo sugli anelli, che, come ci ho abituato anche nelle serie precedenti, sono dei Fuji. Volevo farvi vedere, anche qui sono andati a mettere delle novità, volevo farvi vedere, ad esempio, un'altra linea, canna che a me piace tantissimo, di St. Croix, che è chiusa nella sua bustina, mannaggia a me, che non l'ho aperta prima, vi faccio vedere la Jerkbait, quella che era una volta la Jerkbait, che però è cambiata rispetto alla vecchia classica Jerkbait. In origine, nella vecchia serie, le vecchie serie esisteva la Jerkbait e la Topwater, la 68MF e la Topwater 68MXF. Qui sono andati ad unire le due canne, che di fatto erano molto simili, avevano solo un'azione leggermente più rapida di punta per la Topwater, ma le canne per il resto erano identiche, sono andato ad unirle e da adesso la 68MXF è diventata la classica Jerkbait. non esiste più la 68MF. Scelta, secondo me, giusta, perché alla fine della fiera avevamo due canne molto simili, anche perché ultimamente il mercato si sta spostando verso delle azioni, comunque vogliamo, un po' più rapide. E quindi un'azione un pochino più di punta. ci sta tutta per la pesca a Jerkbait, per la pesca per piccoli ancorettati. Questa, l'ho già detto altre volte, è stata un po' la mia canna preferita, l'ho avuta la Jerkbait della Legend Tour, mentre ne ho avute due contemporaneamente in barca, per diverso tempo, perché è una canna super polivalente. L'ha usata con i Jerkbait, l'ha usata con piccoli ancorettati tipo Squarebill, l'ha usata con dei Topwater, Propeller, Popper, Walking the Dog, è perfetta, senza esagerare ovviamente con le dimensioni, è perfetta. E l'ha usata anche con piccoli spinnerbait, delle chatterbait, quindi faceva di tutto, quindi io ne tenevo due in barca già montate, una con un Jerkbait, una con una chatterbait, e coprivo benissimo i miei utilizzi. È una canna che a me piace molto. Inoltre, rimane comunque sulla serie Legend Tour, mentre come eravamo abituati, il 15 anni di garanzia di St. Croix, che, se non lo riteniamo, ricordatevi sempre quando comprate una St. Croix di tenere il cartellino, se voi tenete il cartellino, avrete i 15 anni di garanzia, una canna garantita, 15 anni, garanzia e scontrino ovviamente. Bass X, invece, rimane come nella serie precedente, con i soli, i soli, diciamo soli, perché comunque sono tanti, 5 anni di garanzia. Visto che, se avete seguito il video fino ad ora, volevo darvi una piccola chicca, che non vi avevo detto all'inizio. Visto le novità che sono arrivate, volevo avvisarvi, che su tuttospinning.com, le vecchie serie, abbiamo ancora qualche misura, sia di Legend Tournament, sia di Bass X, nella versione precedente, nel modello precedente. E le stiamo svendendo, perché sono arrivati i modelli nuovi, arriveranno sempre nuove misure, quindi le stiamo facendo fuori. Le abbiamo messe al 15% di sconto. Vendete su tuttospinning.com, magari vi metto i link in descrizione, e trovate sia le Legend Tournament Bass, che le Bass X, in forte sconto. Trovate già i prezzi scontati online. Niente, oltre con questa promozione, per oggi possiamo dire, che la chiudiamo qua. Noi ci vediamo prossimamente, con altre novità, che stanno arrivando in negozio. Davide vedo che sta aprendo, delle novità, mentre sto parlando. E che dire, il Bass, non vi posso invitare ad andare a pescare il Bass, perché più o meno, adesso sono in frega un po' da tutte le parti. Però, andate a pescare lo stesso, dedicatevi ad altro, andate a pescare il Luccio, andate a pescare la trota come sto facendo io. Dedicatevi, rimettete in ordine le vostre tensature da pesca, che sicuramente, appena riapre il Bass, ci sarà da divertirsi. Un saluto, ciao! sarà da buona calma, Grazie per la visione!